Don't f*** me Ciao a tutti ragazzi da Davizero07 e voi Eccoci qui finalmente arrivati a un nuovissimo video E siamo di nuovo su FIFA 17 Sulla divisione 9 Pronti a scalare fino alla divisione 1 Insieme a voi Come abbiamo visto nel precedente episodio Abbiamo vinto il titolo ad un soffio Se ancora non l'avete visto andate a vedere Non mi piaccia Ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale Bene ragazzi iniziamo Questo è forte no? Vediamo come inizia questa partita Questa oggi Può essere che riusciamo a vincere Ahia Spermette in posizione nerd Che se no Se perdo Poi piangiamo Ma che cosa fa? Che fa? Che fa? Pucciarelli di luna Pucciarelli coccolosi Pucciarelli di luna Ehm Bombich Spawn No Bezzo di No 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 Sei calmo Sei calmo Sei calmi Bravo Così Da cercano spazi mamma mia poi facciamoci ballare la samba e siamo 1 a 0 ragazzi mamma mia e bella la samba e con tutti le samba è violento è diventato violentissimo è diventato violentissimo boom no porca vacca cocava e cacicci dai levati cocava cicci no occhio alla cacca volevi ci può fare niente questo di merda vai 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 tira non è possibile mamma mia come se lo mangia mamma ma che è dai vai vai che me lo sono andato come un porco boom ecco l'assio quello si era rotto però sia stato lo stesso adesso sta facendo simulazione siamo 2 a 0 mamma mia che partitone ragazzi vai no è in fuorigioco immobile lasciami cantare me ne vado un po' a cacare vai che viene un altro gol io ti faccio a bombicione yeah mamma mia nooo che è sta cosa che fa dorme questo nooo bella nooo pezzo di stronzo va bene ragazzi il primo tempo l'abbiamo concluso con 10 tiri 2 e 3 gol miei anzi ne potevo fare molti di più ferma ma non controlla punta l'aria o punta la paparia paparia papà il paparia vai vai nooo nooo bella questa ragazzi ti lascio sparo tu no scivolato pezzo di strombolo vai vai ma che fa tutt'è in porta bello bello questo tiro se era un tiro era un passaggio non lo voglio sapere perchè sinceramente io NON TIRI ma se l'è mangiato di nuovo oh 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 è mio questo fallo ora ti faccio il gol da qua te lo faccio da qua il gol non mi interessa niente vediamo che c'è più forte lui e io te lo segno con lui non mi interessa niente BOOM ok oh 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 ma tu lo sai che significa farmi un gol a me BOOM 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 no che culo di merda ehm oh 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 di oh 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 No, lui me l'ha fatto E' finita ragazzi E' finita nei miglior modi 4 a 2 E niente ragazzi, questa partita ce la siamo portati anche a casa Spero che il video vi sia piaciuto Cliccate mi piace, iscrivetevi E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Questo è tutto Bella raga